Per dare valore legale ai tuoi messaggi di posta elettronica, c'è una soluzione tutta italiana e di grande successo. La PEC. La usi come una semplice email, ma invii e ricevi con la stessa valenza di una raccomandata. La PEC è il tuo domicilio digitale, che ti facilita nel lavoro e nella vita quotidiana. È sempre più usata, è sempre più utile ed è amica dell'ambiente. È la PEC. Su aruba.it